Il primo giorno di ritiro è oggi, abbiamo trovato un roster che la società e tutti gli addetti ai lavori mi hanno messo a disposizione quasi al completo e questo già è un buon punto di partenza. Hanno allestito una rosa nuova, completamente nuova, oggi erano 23 persone di cui 20 sono nuove, quindi abbiamo un compito abbastanza, diciamo, dobbiamo sbrigarci ad assimilare subito un gruppo e poi creare un'intelagliatura di squadra che faccia divertire il popolo stunese e che gli faccia vivere qualche emozione. Quest'anno ho l'onore di essere il capitano di questa squadra che oltre ad essere un privilegio è anche, ripeto, veramente una bellissima cosa dato che comunque sono di Ostuni e quindi è sempre piacevole. Ovviamente non è facile perché comunque siamo 20 e 23 e questi ragazzi sono completamente nuovi, tralasciando due o tre ragazzi che l'anno scorso erano con me, però ci riusciremo perché è quello che dobbiamo fare per raggiungere l'obiettivo. Un obiettivo che deve essere quello di fare bene partita per partita e sicuramente se facciamo gruppo e se riusciamo a seguire i consigli del mister sicuramente sono convinto che questo sarà fatto. Quindi io spero e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti e soprattutto a me e Forza Ostuni.